I Rotary Club di Ladispoli e Cervetri ha un nuovo presidente, una donna, Margherita Frappa. Come ha colto la notizia dell'insediamento? Beh, diciamo che il nostro insediamento inizia circa un anno prima. Noi veniamo eletti quasi un anno, un anno e mezzo prima. E' stata una sorpresa, sì, in effetti non me l'aspettavo perché la mia affiliazione al club risale soltanto a 6-7 anni fa. E' la terza donna negli ultimi 20 anni. Sì, sì, è il terzo presidente donna negli ultimi 20 anni. Sappiamo che il Rotary si occupa di progetti di socialità, quale sarà la sua mission? Allora, la mia mission è sicuramente un incremento dell'azione sociale, mediante azioni e servizi sostenibili, da realizzare in sinergia con i giovani dei nostri clubs Interact, con le associazioni, gli enti e le amministrazioni locali. Tra questi ne abbiamo già diversi che sono iniziati lo scorso anno perché stiamo dando più respiro ai nostri progetti, quindi progetti pluriennali. Abbiamo un progetto con l'ASL Roma 4 che è iniziato lo scorso anno. Quest'anno si incrementerà con l'acquisto di una tenda che sarà un presidio itinerante su tutto il territorio e del club, ma anche dell'ASL Roma 4 per esigenze peculiari del momento, quelle possono essere i vaccini, gli screening o altre cose.